Grazie Presidente. Io non ripeterò le cose che hanno detto i miei colleghi del Movimento 5 Stelle perché oramai sono ovviamente scontate, però quello che mi interessa sottolineare in questo intervento è la visione che noi diamo agli obiettivi che ci stiamo dando. Noi stiamo cambiando questi obiettivi, noi vogliamo raggiungere la riduzione della CO2 del 40% entro il 2030, poi ci sono alcuni aspetti che sono considerati volontari da inserire negli obiettivi e nelle azioni da perseguire proprio per il raggiungimento di questi obiettivi. E sono proprio la gestione dei rifiuti, un tema per noi fondamentale, questo tema per noi è centrale inserirlo tra gli obiettivi del Paesc e anche la CO2 relativa alle alberature. Noi adesso da questa domenica inizieremo la piantumazione di 12.000 alberi e che è un lavoro che noi vogliamo continuare nell'arco del tempo perché per noi è importante poter perseguire un obiettivo di riforestazione all'interno di questa città. Per cui gli aspetti importanti che ci sono nella scelta di dover ritirare la delibera del Paesc e fare una nuova delibera con il Paesc è proprio quello di ripensare, c'è stata questa opportunità del Paesc che ha ridefinito gli obiettivi nel 2030. Queste sono le ragioni per cui noi facciamo questo tipo di scelta. Così come hanno detto anche i miei colleghi, noi non abbiamo difficoltà a seguire quel percorso che è stato attivato nel 2009 e poi nel 2013, proprio relativamente anche alcuni aspetti relativamente al Paes, alla parola definita a pagina 137 del termovalorizzatori, perché non c'è nel rapporto, il rapporto con i risultati che si dovevano raggiungere, che il Partito Democratico doveva presentare nel 2015 e nei due anni e mezzo della loro Consigliatura non hanno mai fatto e oggi ci dicono a noi che noi non abbiamo presentato quel rapporto. E loro nei due anni e mezzo non hanno fatto proprio questo tipo di lavoro. Noi non l'abbiamo fatto per una scelta strategica e questa scelta strategica è proprio di rivedere tutto quanto il piano. E questa è la ragione fondamentale per cui per noi è importante ritirare quella delibera e presentarne una nuova. Io ringrazio l'assessore Montanari, ringrazio per la scelta di aver messo all'interno dello staff una persona di grandissima competenza come il dottor Lumicisi, per cui noi abbiamo una grandissima fiducia che su questo potremo fare un lavoro veramente fatto molto molto bene. Grazie e buon lavoro a tutti.